Ma molto bene, mi sono trovato molto bene grazie anche ai miei compagni di reparto, sia Mancoso sia Lepo, già l'ho fatto sia nel Palermo Primavera, quindi mi sono trovato molto bene. Ero molto emozionato ma allo stesso tempo molto concentrato perché volevo far bene, sì è euforico ma molto concentrato. Eh sì certo, quello sì, però l'importante era vincere quindi sono molto contento soprattutto per la vittoria della squadra. Sì sì, è stata una partita molto impegnativa anche perché loro si sono chiusi molto bene e ripartivano tanto. Noi dovevamo trovare tanti spazi girando tanto la palla, però l'importante come ho detto prima era vincere e ci siamo riusciti. Perché no, così, anche perché in primavera il mio mister Bosi mi ha dato questo numero 21 e da lì ho sempre portato questo numero. Non c'è nessuna parata di pensiero a Pirlo? Ma guarda, Pirlo è un giocatore immenso quindi per adesso no. Mi piace come gioca Montolivo, Buonaventura, ci sono tanti giocatori che fanno il mio ruolo e li guardo molto per studiarli sia in tv ma anche lo stesso il mio compagno di reparto a Rigoni. Lo guardo molto perché è una persona veramente eccezionale quindi lo stimo tantissimo sia da giocatore che da uomo. Mi rimane una persona eccezionale dove mi aiuta molto sia in campo soprattutto. Eh sì, questo sì, però devo ancora migliorare tanto e quindi mi fa bene crescere ancora. La squadra non la conosco, mi sa che conosco un ragazzo che ci giocavo contro tanto tempo fa con il Catania, avevamo il derby Palermo-Catania e si chiama Scapellato. Però non so la squadra, non la conosco, però sarà sempre una formazione molto competitiva come è stata la regina e sarà una battaglia come è stata quella di domenica sera. È un rapporto veramente stupendo perché l'anno scorso mi ha portato lui a Cosenza tramite il Palermo. Da lì è nata una relazione col direttore molto diretta, parliamo anche dopo le partite, quello che ho sbagliato, quello che ho fatto bene e quindi da lì mi dà sempre anche lui una mano e mi aiuta molto. Il padre ce n'è uno solo, però mi dà veramente una mano, una persona per me molto importante, questo sì. Grazie.